Ascoltatemi, ascoltatemi un attimo. Non sono mai riuscito a parlare, a capire quello che provo veramente. Mentre voi non l'avete sempre fatto sentire importante, utile per qualcuno, e poi che cazzo non l'avete fatto? Non sono riuscito manco a fare una delle cose più stupide, come mettermo in un'altra vita. Non, 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 non. Non, 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 non. E' una cosa importante, speriamo, è una cosa importante, speriamo, sta a lasciar segno. Grazie a tutti.